Ciao e benvenuto o bentornato sul mio canale. Oggi ti parlo di supereroi. Buona visione! Parlando di supereroi, probabilmente potresti aver visto millenila video di tizi anglofoni che ti dicono più o meno le edizioni che puoi trovare, quali sono i supereroi più famosi, insomma le case editrici più gettonate, eccetera eccetera. Tutto questo nel paese di provenienza della maggior parte dei supereroi, che è a livello molto generico gli Stati Uniti d'America, non vale in Italia. Magari ti sei chiesto in passato, andando a vedere un cinecomics, un film dedicato a uno di questi supereroi, ti sei chiesto come poter seguire uno di questi personaggi, come poter acquistare tutte le avventure del suddetto protagonista, eccetera. Quello che ti voglio dire io è quella seguente informazione. Io è un po' che leggo fumetti e mi sono convinta del fatto che sia impossibile conoscere tutto del dato supereroe. Nel momento in cui arrivi a questa comprensione, secondo me arrivi ad un approccio molto più orientale alla faccenda, in cui cerchi di sapere almeno un po' di questo argomento, di appassionarti magari di leggere in maniera un pochino rilassata forse quali sono le sue vicende, magari le sue origini, eccetera, eccetera, ma non passerai più tempo a cercare di capire qual è la sua storia nella sua interezza in tutte le declinazioni di tutti i vari autori che siano mai stati coinvolti nella sua testata. Ogni supereroe, ti ripeto, rimaniamo un attimo con quegli americani, ma ce ne sono altri, vari ed eventuali, anche nostrani, hanno tipicamente un nome che li contraddistingue, più o meno un modo di apparire, una tutina, insomma, che in inglese viene riconosciuto come character design, cioè come sono effettivamente stati concepiti dal punto di vista estetico, e poi più o meno abbiamo una serie di variazioni che potrebbero essere la storia delle sue origini, che più o meno rimane sempre la medesima, qualche evento saliente della sua vita, e in alcuni casi il momento in cui è morto. Tu dirai, se è morto le cose si sono già concluse, sono a posto. No, molto spesso, proprio perché questi possono andare avanti e indietro nel tempo, molto spesso sono ambientati comunque in luoghi fantascientifici che hanno magari diverse tecnologie rispetto a noi, eccetera, possono in qualche modo tornare, quindi non pensare che una morte sia morto, defunto, sepolto, mai più visto, mai più sentito. Non è così nel mondo dei supereroi. Quindi il mio consiglio è, come al solito, focalizzarsi su qualche cosa, su un autore che ti è già piaciuto in passato, su un disegnatore che ti è già piaciuto in passato, su qualcosa che ti ha colpito perché l'hai visto online. I motivi sono mille e mila e sono senz'altro più di questi. Pagarti sarai chiesto in passato perché noi lettori di fumetti rompiamo così tanto le scatole quando esce un film ispirato a una storia che ci è piaciuta molto, insomma. Ma beh, è un po' come quando vedi qualcosa che è tratto da un libro che ti è piaciuto molto. È chiaro che molte cose possono rimanere le stesse, possono essere anche magari più belle perché l'uso degli effetti speciali, di una bella colonna sonora, eccetera, può anche arricchire la faccenda. Così come ci sono tanti aspetti, vedi la fotografia, se hai presente cosa è con la fotografia in un film, insomma, capirai da solo che a livello di inquadratura il fumetto ha già un media piuttosto potente. Quindi tu vorresti vedere qualcosa di simile o di ancora più potente sul grande schermo, non sempre così. Potresti aver sentito, per esempio, grandi lamentere sul vecchio film di Daredevil, sul vecchio film di Lanterna Verde, su cose del genere. Dico vecchio perché entrambi dovrebbero avere nuove versioni in futuro. Perché questo? Se ci pensi, io ai tempi Daredevil, lo vedi, mi piace anche come prodotto in sé. Voglio dire, è un film discreto, ti intrattiene durante la durata del film. Insomma, ci sono degli attori bravini, se ti garbano i soggetti. A me, per esempio, piace Jerry Fergarner, mi piace Colin Farrell, che sono due dei protagonisti. Quindi Ben Affleck non mi ha mai fatto impazzire, ma è una questione mia. Ebbene, in Daredevil c'è una delle storie possibili di questo protagonista, che è appunto questo, diciamo, vendicatore mascherato che vive a Hell's Kitchen, un giorno per motivi vari perde la vista, però decide di, come dire, combattere lo stesso al crimine, grazie anche a un udito particolarmente sviluppato che gli permette di avere una sorta di radar del paese circostante, insomma. Questo rimane nel film, ok? Ma molti degli archi narrativi di Daredevil, alcuni più felici di altri, ecco, ci portano un personaggio molto più complesso, complesso, no, complesso, complesso, con un sacco di sfumature in più, con antagonisti diversi oltre a Kingpin, con coprotagonisti diversi oltre a Electra, seppure sia uno dei personaggi principali della sua storia, e questa faccenda te la potrei ripetere per quasi tutti i film che sono usciti finora, alcuni sono migliori di altri, ma non ti parlerò di questo in questo video. Dicevo, come seguire poi effettivamente un personaggio che ti abbia colpito? Ti ha colpito, poniamo il caso, Devil, una volta si chiamava in Italia, comunque Daredevil, questo vendicatore vestito di rosso, eccetera, eccetera, ebbene, proverai a, come dire, pescare qualche cosa in Italia, tutto ciò che è Marvel è prodotto e pubblicato da Panini, tutto ciò che è DC Comics è prodotto da R.V. Lion, più o meno, andiamo a spanne, tutto ciò che è prodotto da case editrici come la Image, come Dark Horse, come Mad, chissà quali altri case editrici, non è prodotto sempre dagli stessi. Ultimamente Image viene pubblicata da Bao Publishing, ma non è una scienza esatta, ok, eccetera, la salda press fa le sue cose, ok, ci sono un sacco di cose di cui poter parlare. Il punto è, la soluzione potrebbe essere pinzare uno spillato, pinzare un brossurato, pinzare un qualche tipo di rilegato di lusso, come orientarsi in questo senso. Se hai già visto uno di quei video, dicevo, di un americano o di un inglese che te ne parla, tu avrai capito, immaginato, che prima le cose escono in spillati, che poi le cose escono in brossurati ogni sei mesi, più o meno, e che poi escono in versioni dell'Ax Absolut, e chi più ne ha più ne metta. Questo in Italia non è vero, non è valido. Ora, non è che il discorso sia tanto diverso, ma tutto ciò che esce in spillato, non è detto che un giorno sarà, poi, collezionabile, insomma, in un brossurato e poi in un rilegato. Non è una scienza esatta. Se la serie non ha avuto magari particolare seguito, se non credono che sia particolarmente rilevante, o che non venderebbe abbastanza, non la vedrai mai in brossura, figuriamoci poi in una rilegatura rigida, eccetera. Quindi, in linea di massima, se un supereroe ti piace, in Italia la soluzione è pescare lo spillato. L'uscita, nel nostro caso, mensile. Ma anche da loro le cose escono magari mensilmente, ma sono fascicoletti più piccoli, che in alcuni casi escono addirittura tutti i mercoledì, per farti capire. Se segui un canale che ho consigliato di recente, cioè quello di Ghost Critic, potresti vedere i suoi spillati, sono veramente molto molto sottili rispetto a quelli italiani. Perché? Perché le case editrici italiane hanno trovato un espediente, un modo di vendere i loro supereroi. Come? Per esempio, in quello che vedi qua, che era Lanterna Verde, avevamo Green Lantern, serie di base, Green Lantern Corps, molto spesso associato, e anche a volte altre cose, tutte insieme, che invece in America sono venduti separatamente. Questo perché? Nel nostro caso costano leggermente di più, quindi di spillati, ma è un po' più da leggere, tutti i mesi, e molto più probabilmente così riusciamo a rimanere a galla. E in genere, se ti sta simpatico il mondo delle Lanterne Verdi, insomma, leggerai anche magari cosa dicono le Lanterne Rosse, cosa stanno facendo le Lanterne Gialle, eccetera. Mentre, se stai leggendo Wonder Woman, magari ti frega assai di leggere che cosa stia facendo Sinestro nella sua vita, non so se rendo l'idea. Ogni tanto, gli accoppiamenti non sono così intuitivi. Per esempio, recentemente ti ho consigliato Strange, all'interno di Doctor Strange c'è Scarlet Witch, che è comunque un altro tipo di stregone, diciamo, quindi ha un po' più senso, ma nel caso, per esempio, della potente Thor, troverai Ercole, che è un supereroe che ha effettivamente a che fare con la mitologia, quindi spesso ti potrebbe andare bene, le cose potrebbero avere senso le une con le altre. Ricordati sempre, nella prima bandella interna, insomma, nel quarta di copertina, chiamala come ti pare, di uno spillato, in genere ti viene ben indicato che cosa contenga il numero che stai per acquistare, leggere, insomma, eccetera, eccetera. Questi sono alcuni dei consigli, mi rendo conto, proprio basilari basilari, ma per farti capire che non è pedisse qua la faccenda. Non tutto quello che in America viene proposto in un certo modo, in Italia viene proposto nella stessa identica maniera. Quindi, se vuoi provare un supereroe di qualche tipo, io ti consiglio di andare a pensare lo spillato numero uno di quella saga. Ogni tot tutto riparte da uno, proprio perché ogni ciclo narrativo scritto da diversi autori, in genere riparte anche con la numerazione. Quindi cerca i numeri uno, cerca di capire se questo ti può far piacere e tieni presente che per supportare tutta questa macchina, in Italia, in genere, seguire lo spillato è l'unica opzione effettivamente sensata da percorrere. Mentre se leggi anche in inglese, puoi pensare di recuperarli già in cosiddetto paperback, cioè appunto in copertina morbida e quindi in brussura. Vedi tu, io credo che i supereroi abbiano molto da dire, da raccontarti. Tieni presente che sono tutti, ovviamente, un po' più eccessivi rispetto a quello che potresti leggere se leggi solo romanzi storici, per dire. Sono persone che magari girano con mantelli svolazzanti, che se ne vanno in giro coperti di strani trucchi, più o meno iridescenti, che hanno appunto strane calzamaglie, eccetera, ma questo non gli impedisce di raccontare, ripeto, grandi storie. Io te ne ho parlato a lungo fino ad oggi di Supereroi Vari, spero che questo video ti possa chiarire un po' di più qual è la questione in Italia e detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao!